Voleva impiccarsi, ma i familiari sanitari del 118 lo hanno fatto desistere. Un 74enne residente in un comune, Peligno, avrebbe tentato l'altro giorno il suicidio per impiccagione per in mezzo di un cavo elettrico agganciato a una pianta del giardino di casa. Solo grazie al tempestivo intervento dei familiari e dei medici del 118, allertati da quest'ultimi dopo essersi accorti dell'estremo gesto del congiunto, si sarebbe evitato di scrivere una brutta pagina di cronaca per il territorio Peligno. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'anziano al pronto soccorso del nosocomio cittadino per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per rilievi di rito. Tutto è bene quel che finisce bene, questa volta è proprio il caso di dirlo.